Sopra Cortina si sfiorano i tre metri di neve, due sul col dei baldi tra Zoldano e Gordino eppure a Misurina dove sono arrivati i generatori a gasolio in vista di ulteriori nevicate, il rischio di prolungati blackout e concreto, mezzi uomini sono in azione ininterrottamente da sabato, Alleghe e Rocca Pietore terranno chiuse le scuole domani, Livina Longo anche giovedì, scelte simili si stanno facendo in altre zone del Comelico dove Veneto Strade ha chiuso la strada panoramica da Costalta a Costalissoio ma sono 27 le arterie chiuse in tutto il Bellunese, in mattinata è stata anche sospesa l'attività del drive-in di Sagronia alle porte del capoluogo poi proseguita all'ospedale San Martino, queste sono solo alcune degli istantanei di un'immacolata da brivido con un rischio valanghe altissimo come ha continuato a ripetere il centro valanghe di Araba per tutta la giornata sconsigliando gite, appelli caduti nel vuoto in alcuni casi come dimostra il recupero di nove persone rimaste isolate dalla neve sul pian della sussistenza soprapasso San Pellegrino, sette erano bloccate in un residence dove era terminato pure il carburante del gruppo elettrogeno, oltre al gestore due famiglie, una veneziana di Marcone, una trevigiana di Falzè tra cui un bambino recuperata anche una coppia con il cane che si trovava in una baita vicina, ci sono voluti tre gatti delle nevi per accompagnarli a valle con l'aiuto degli uomini del soccorso alpino della Valbiois e dei vigili del fuoco, turisti non hanno rinunciato alla gita dell'immacolata nemmeno sul Nevegal dove su impulso del comune sono intervenuti anche i carabinieri, persone stavano passeggiando sotto gli alberi pericolanti. Una situazione veramente assurda che ha infracciato il lavoro alla protezione civile e che ha dovuto prestare soccorso molto di queste persone quando in verità doveva fare dei lavori ovviamente per liberare le strade, per mettere in sicurezza le abitazioni, abbiamo dovuto far intervenire la prefettura. Diverse le multe staccate in un clima che resta di emergenza in tutto il bellunese dove è attesa ancora neve, una neve che vista la chiusura degli impianti profuma sempre più di beffa.